Nei momenti davvero bui, il lamento, il chiedersi perché Signore, diventa preghiera. Non è una bestemmia, però dobbiamo evitare le lamentele da teatro, prepararci ai momenti bui e pregare per i fratelli che soffrono davvero. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta, commentando il brano del libro di Giobbe nel quale il profeta maledice il giorno in cui è nato, perché ha perso tutto e il suo corpo è diventato una piaga. Tante volte ho sentito persone che stanno vivendo situazioni difficili, dolorose, che hanno perso tanto, o si sentono solo, abbandonati, e vengano a lamentarsi e fanno queste domande. Perché? Perché? Si ribellano contro Dio. E io dico, continui a pregare così, perché anche questo è una preghiera. Era una preghiera quando Gesù ha detto al suo padre, perché mi hai abbandonato? E tanta gente, tanta oggi, è nella situazione di Giobbe. Tanta gente buona, come Giobbe, non capisce cosa lì è accaduto, perché sono così. Tanti fratelli e sorelle che non hanno speranza. Pensiamo alle tragedie, alle grandi tragedie. Per esempio, questi fratelli nostri che per essere cristiani sono cacciati via della sua casa e rimangono senza niente. Ma Signore, io ho creduto in Te. Perché? Credere in Te è una maledizione, Signore? La nostra vita è troppo facile. Le nostre lamentelle sono lamentelle di teatro davanti a questi, a questi lamenti di tanta gente, di tanti fratelli e sorelle che sono nel buio, che hanno perso quasi la memoria, quasi la speranza. che vivono quel esilio di sé stessi. Sono esilati anche di sé stessi. Niente.